Siamo con Mr. Telli, l'allenatore dei portieri del San Luca. Mister, questa serata di formazione dedicata sia alla squadra che alla dirigenza. Allora ti chiedo, gli strumenti acquisiti fino a questo momento, come possono servire per la tua di squadra? Cioè la squadra tecnica, tu, il mister, il preparatore. Cosa vi può tornare utile in questo ragionamento? Ma sicuramente tanto, perché ti fa capire che in primis dobbiamo essere noi a trasmettere ai ragazzi quelli che sono gli obiettivi del campo. Ma io dico sempre che noi come staff siamo anche dei genitori verso questi ragazzi e deve essere un insegnamento di vita, dentro e fuori dal campo. Poi ognuno di loro sicuramente avrà gli obiettivi suoi, i mezzi suoi, c'è chi di più, chi di meno, però l'intento poi deve essere il gruppo per un unico obiettivo, quello che è arrivare ad avere risultati non buoni. Io dico sempre ottimi o eccellenti perché se parti da queste situazioni puoi ottenere qualcosa. Perché i risultati così, dici vado al campo per allenarmi quanto per, non serve a niente. Né a noi e né ai ragazzi. Allora bisogna dare sempre il massimo. Dico sempre che nella vita non è il difficile arrivare, è il mantenere. E il mantenere per tenere gli obiettivi altri da parte dello staff, ai ragazzi, è trasmettere un po' al mondo del calcio intero. Si è parlato molto di cura dei dettagli, che è un po' anche quello che dice spesso Murigno per parlare di un grande nome. Qui si è parlato di Serie C in questa prima parte della serata, forse non è un obiettivo raggiungibile nel brevissimo ovviamente. Però ecco, la cura maniacale dei dettagli dall'inizio delle stagioni può essere davvero l'arma per essere poi più forti in campionato e quindi poter scalare posizioni. Certo, il San Luca ha un'esperienza, se torniamo al retro, primo anno di Serie D, semifinale, playoff. Stiamo parlando di un risultato alle porte della C. Si era fatto un lavoro certosino, c'erano staffi tecnici importanti, che in questo di oggi è meno. Però c'era la qualità del sacrificio dei calciatori, dentro e fuori dal campo. E i risultati si sono visti. Quest'anno è una situazione un po' così, si sta costruendo e bisogna trasmettere quelli che sono stati i valori del primo anno di Serie D del San Luca. Io dico sempre questo. L'ultima domanda, rifacendoti anche magari all'esperienza da calciatore, perché le squadre direttantistiche hanno una grande varietà. C'è il calciatore alle prime armi, c'è quello che magari sta finendo. Gli strumenti di Adi stasera possono in qualche modo armonizzare la motivazione per poi quando si va in campo la domenica? Ma sicuramente, perché al di là se c'è il calciatore over o il calciatore under, l'obiettivo domenicale il risultato è quello. Non esiste che un calciatore dice over, finisco di giocare. Forse gli over devono dare più degli under perché devono trasmettere in campo quelli che loro sono stati e quelli che sono in quell'attimo che magari un ragazzo under ancora deve acquisire per arrivare a degli obiettivi importanti. Io dico che ha una valenza di pari merito, però uno deve essere bravo a capire quando deve aiutare e che l'over deve dare sempre il massimo, più dei ragazzi. Perché se il ragazzo vede che l'over dà il massimo, il ragazzo si comporta medesimo comportamento. Grazie